Pronto! Marziani e non Marziani, forza al telefono che è il vostro momento! Pronto! Buonasera Super TV! Ciao Fabio! Chi sei? Ciao! Devo dirti chi sono? Scommetto! Non sono un marziano, ma sei la Bernarda! Benissimo! Oh, ho zecchato! Vorrei essere lì anch'io con voi! Ormai mancabile! Ecco! Tutto bene? Sì, a parte quelli che mi fermano e mi chiedono, ma senti, com'è la Bernarda? Una sera a questo punto devi... Momento! Fermi tutti! Divi... Vuoi che ti dica una cosa? Fabio! Possiamo mandare la pubblicità, per favore? Fabio! Eh? Ascolta, sono come tutte le Bernarde! Senti! No, devi venire qui a farti conoscere di persona a questo punto, perché mi stai rovinando la reputazione di 18 anni! No, dai, che sorridiamo un po'! A parte che è anche un lumino lì davanti che mi sembri un morto! Ah, perché... In effetti non ci avevo badato! Eh, io ti ho visto subito! Eh? Eh, ti ho visto... Questa, ma su me ho tutto pene! Non ci avevo badato, te lo giuro, eh! Niente, allora... Ti sentiamo la settimana prossima! Sì! Se proprio vuoi! Se proprio esisti! Se proprio esisti! Senti, scegli un colore, va! Che colore c'è rimasto? Eh, giallo, azzurro, verde o arancio? Azzurro! Azzurro! Azzurro per la Berni... Ecco! Ghedi! Di Ghedi! Va bene! Maggia! Grazie per... Ti saluto! Puoi anche dirmelo il nome? Eh? Ah, sì, la parola! Ah, no, 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 non so cos'è... Perché avevo detto scorreggione, ma mi hai detto di no! Niente! Non è quella! Non è quella! Ciao, Fabio! Ciao, grazie! Grazie a Zeril! Pronto?